L'inchiesta sistema parte da qui, dal cantiere dell'alta velocità del nodo fiorentino e dal sotto attraversamento della città, un'opera faraonica su cui la procura di Firenze nel 2013 ha aperto un'inchiesta. Due anni di indagini portano ai quattro arresti di oggi, agli altri 47 indagati e a un centinaia di perquisizioni in tutta Italia. I reati vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta, l'induzione in debita alla turbata libertà degli incanti. Un articolato sistema corruttivo lo ha definito il capo della procura Creazzo, che coinvolgeva dirigenti pubblici e società aggiudicatrici di appalti. Tra tutti un nome eccellente, Ercole in calza, fino a due mesi fa capo della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti. È lui, l'Ercolino, che fa il bello e il cattivo tempo lì dentro, come lo ha definito un dirigente di ferrovie. Il principale protagonista, insieme a Stefano Perotti, l'imprenditore che avrebbe gestito appalti per almeno 25 miliardi di euro negli ultimi 15 anni. Oltre al nodo di Firenze, definito da alcuni indagati, lo stipendificio, l'alta velocità tra Firenze e Bologna, tra Brescia e Verona, tra Genova e Milano, l'autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre, l'autostrada Cispadana, l'autostrada in Libia mai realizzata, il nuovo terminal di Olbia, alcuni lotti della Salerno-Reggio Calabria e anche la realizzazione di Palazzo Italia. E tra gli indagati spunta Antonia Cerbo, l'ex manager di Expo, già arrestato nell'inchiesta milanese sulla cupola degli appalti. Arrestati anche Sandro Pacella, stretto collaboratore di Incalza e Francesco Cavallo, presidente di Cento Stazioni Spa. Le società che si aggiudicavano gli appalti sarebbero state indotte da Incalza a conferire a Perotti o a professionisti e società a lui riconducibili incarichi di progettazione e direzione dei lavori, mentre come contropartita Perotti avrebbe invece assicurato gli incarichi di consulenza a persone vicine ad Incalza e a lui stesso. Si realizza un sistema controllore controllato probabilmente non perfetto, diciamo e quindi un'approvazione abbastanza non contrastata di varianti che poi comportavano la lievitazione dei costi. Costi che potevano lievitare fino al 40%, la Greenfield System che fa capo a Perotti si sarebbe garantita dall'1 al 3% degli importi. Indagati anche Rocco Girlanda, ex sottosegretario e trasporti Antonio Bargone, presidente della SAT, l'ex deputato Stefano Saglia e Vito Bonsignore, europarlamentare confluito nel nuovo centrodestra. Nelle carte anche il ministro dell'infrastruttura Maurizio Lupi col figlio Luca, entrambi non indagati. Stefano Perotti avrebbe procurato incarichi di lavoro a Luca Lupi al quale avrebbe regalato anche un Rolex d'oro. Ma il ministro smentisce il coinvolgimento del giovane che fino a un mese fa collaborava con uno studio di Genova che fa capo ai familiari di Perotti. Non ho mai chiesto nulla a nessuno per lui, ha detto Lupi. Nubi anche sul vice ministro dell'infrastruttura, il fiorentino Riccardo Nencini, leader del PSI. In una telefonata di Lupi con in calza la sua nomina viene attribuita proprio ad un desiderio del supermanager, anche Nencini smentisce ogni coinvolgimento. Passato attraverso sette governi in 15 anni, uscito pensionato e rientrato consulente, al ministero dei trasporti Ercole in calza ha sempre mantenuto lo stesso potere smisurato, la stessa capacità decisionale, scrive il GIP di Firenze. E con il suo contratto di consulenza fino al 31 dicembre scorso, l'ingegnere nato in provincia di Brindisi 71 anni fa, ha fatto il capo della struttura tecnica di missione, l'organismo che gestisce i miliardi per la realizzazione delle maggiori opere del paese, sempre contando su un grande feeling con i suoi capi. Per Procura e Ross, in calza è il dominus del sistema corruttivo, un'impalcatura costruita pezzo per pezzo con l'altra figura chiave dell'inchiesta, Stefano Perotti, 57 anni, romano, anche lui ingegnere, figlio di un caro vecchio amico di in calza, Massimo Perotti, negli anni 80 superpresidente della Cassa per il Mezzogiorno e direttore generale dell'ANAS. Quando Perotti Senior per problemi giudiziari deve uscire di scena, affida il figlio ad in calza. Perotti Junior apre una società di ingegneria, il manager diventa il suo referente tecnico-politico, di fatto i due sono soci, si scambiano incarichi, favori, contropartite milionarie. Finora in calza era uscito in colume da una lunga sequela di procedimenti, una quindicina, tra i più recenti il MOSE, l'Expo, un'inchiesta simile scagliola con una casa per la figlia, comprata nel centro di Roma a un terzo del valore, intermediario Diego Anemone. Esulta al Movimento 5 Stelle prima di chiedere in Senato le dimissioni di Lupi. Ministro, si ricorda come difendeva in calza di fronte a noi? Oggi l'hanno arrestato, twitta Alessandro Di Battista postando il video di nove mesi fa. Per questi motivi riteniamo inopportuno che l'ingegnere in calza ricopra ancora questo delicato ruolo e richiediamo l'immediata revoca dall'incarico. L'ingegnere in calza, per la sua particolare competenza in materia di trasporti e d'opere pubbliche, ha ricoperto, come ha sottolineato l'interrogante, da molti anni importanti e concludo incarichi, in ragione alla delicatezza delle funzioni a lui assegnate e la rilevantissima responsabilità ricoperta, è stato oggetto, come è stato detto, di numerose e doverose verifiche da parte dell'autorità giudiziaria che non hanno mai rilevato nel suo operato non solo elementi di reato, ma anche di mere irregolarità amministrative. Grazie a tutti.